La collega Toia mi può rispondere su quanto era stato promesso alla delegazione dei lavoratori che era venuta da Terni qua a Bruxelles con un documento che nel giro di due giorni prima è sparito e poi è stato completamente stravolto. Non possiamo stupirci se c'è la Commissione che fa i magheggi, se poi quelle che erano le istanze dei lavoratori arrivate qua a Bruxelles in un colpo di spugna sono state stravolte e cambiate. Spiace molto per due cose. Primo che colleghe che io stimo e penso siano sempre documentate e preparate siano così poco attente e conoscitrici dei documenti e dei fatti, ma questo è un fatto di serietà personale. E poi che si voglia fare qui una piccola polemica tutta nazionale. Noi non abbiamo fatto sparire nessun documento, abbiamo sottoscritto un documento dei lavoratori convintamente, le forze politiche qui presenti e poi quel documento è rimasto nei nostri lavori e nel nostro impegno. Tant'è vero che noi avevamo depositato per questa sessione, lo faremo per la prossima, aderendo a una richiesta che anche voi avete fatto, anche cambiando il titolo e l'abbiamo accettato e con i nostri voti è passata, abbiamo preparato tutta una questione, diciamo un'interrogazione molto articolata, molto precisa, che riprende quegli impegni che i lavoratori ci hanno chiesto perché li condividiamo per questa semplice ragione di competenza dei problemi e di coerenza personale e politica. Quindi nessuna strana invenzione di documenti che vanno e vengono, quel documento portatoci dai lavoratori l'abbiamo sottoscritto e lo sviluppiamo con i documenti successivi e con la nostra azione politica.